Kiev e l'Ucraina entrano a far parte della Lituania, non della Moscovia. L'Ucraina resta separata da Mosca ed è estranea a Mosca per molti secoli. Ma non solo l'Ucraina è separata da Mosca, anche da un punto di vista etnico parzialmente e dal punto di vista delle idee politiche totalmente. Sotto la cappa nera della guerra, i fiori del male, del manicheismo e dell'improvvisazione. Ecco perché oggi più che mai è fondamentale consentire a tutti di conoscere la storia. Volete far sfoggio di erudizione citando la storia dell'Europa orientale o quella delle civiltà asiatiche, il noumeno di Platone o lo spirito infinito di Hegel? O semplicemente riaccendere il piacere impagabile della conoscenza? Tolandus Redivivus, pseudonimo ispirato al protogluminista inglese John Toland, è il professor Fabrizio Pucca, docente di storia e filosofia al liceo Galilei di Bitonto. In poco più di un anno ha pubblicato su YouTube e sui social circa 450 lezioni. Nessuno spot, né contenuto aggiuntivo a pagamento. Tutto gratis, per tutti. Io ho iniziato con la prima ondata della pandemia, dopodiché la cosa mi ha preso un po' la mano e ho deciso di ampliare il progetto. Federico II, molto tollerante e molto moderno, con i musulmani, aveva iniziato a commerciare, preferiva fare affari piuttosto che fare guerre. Quindi Federico II non vuole partire per questa crociata e il Papa si spazientisce, lo scomunica. Lezioni ricche anche su argomenti trascurati o per nulla trattati, diverse da quelle spesso molto sintetiche che già si trovano in rete. Però il sintetico può diventare superficiale. Io cerco di realizzare delle lezioni piuttosto lunghe, approfondite, andando nei dettagli. Ma in un mondo che rischia di sbandare sulle traiettorie sempre più vorticose di telefonini e tecnologia, storia e filosofia sono ancora accattivanti? La filosofia insegna a ragionare, bisogna spiegarla in un certo modo. Uno studente si accorge subito se un professore sta lì soltanto per prendere lo stipendio oppure se un professore crede che quello che sta spiegando sia davvero qualcosa che merita di essere conosciuto. 450 lezioni già pubblicate, ma non è finita. No, ho altre 300 lezioni già registrate e ne registrerò almeno altre 300. La rete è una grande opportunità, insomma. Può essere teatro di cultura, competenza e passione, come per Tolandus Redivivus, o di pressappochismo, superficialità e presunzione. Sta a noi. Socrate dice che il motivo della mancanza di sapienza sta anche nel fatto, su attenzione, e questo potrebbe essere una cosa molto moderna, che tutti questi personaggi di queste categorie politici, poeti o artigiani, pensano non solo di avere sapienza nella loro arte particolare, ma di avere sapienza in tutto.